Emanuele Rossini è il coordinatore dell'area digital di Emergency, l'associazione umanitaria che con la sua campagna Ognuno Merita un Futuro, è stata candidata al premio RETA 2022 nella categoria Comunicazione Sociale. Allora, puoi raccontarci di che cosa si tratta e che cos'è questa campagna? La campagna si sviluppa in un video che abbiamo realizzato insieme a Ogilvi, è un video narrativo che racconta la storia di una madre, di una scelta difficile, non racconto di più, lascio vedere alle persone un po' il finale senza fare spoiler, è un video che è fatto per far riflettere le persone che lo vedono sulla guerra e su quali possano essere le conseguenze sulla vita di ciascuno di noi, delle persone che si trovano costrette a subire la guerra e le sue conseguenze. È un video che abbiamo diffuso online, sui nostri canali, sul nostro sito, sui nostri social network e che anche altre realtà, altri siti hanno deciso di condividere proprio per amplificare questo nostro messaggio. È un video che ha avuto anche un ottimo riscontro, sia in termini qualitativi che quantitativi. E per quanto riguarda la strategia di comunicazione nella quale si inserisce? Da qualche anno ormai, nel periodo delle feste di fine anno, abbiamo fatto questa scelta di produrre, pubblicare, diffondere dei video che non si basano tanto sul racconto diretto di quelle che sono le attività di emergency, ma più su dei video che vogliono passare un messaggio regato a quelli che sono i nostri valori, a quello che è anche il nostro lavoro per una diffusione di una cultura di pace. Quindi sicuramente da un lato è un qualcosa che facciamo ogni anno. Si inseriscono proprio in questo anche filone di comunicazione valoriale, chiamiamolo, che comunque vuole fare passare dei messaggi che riteniamo siano universali, l'opposizione alla guerra, la necessità, un altro anno era la necessità della parità di accesso per tutti alle cure mediche, le cure sanitarie, gratuite e di qualità, può essere il tema dell'accoglienza. Sono dei video fatti per far pensare, per anche spiegare a chi ci segue non solo cosa facciamo, ma perché lo facciamo e in che cosa noi crediamo. Due parole sui risultati? Come dicevo prima abbiamo avuto degli ottimi riscontri sia in termini qualitativi, commenti che abbiamo visto online, ma anche commenti un po' che ciascuno di noi ha sentito, che abbiamo ricevuto dai sostenitori. Anche in termini numerici siamo riusciti a dare una diffusione molto ampia a questo video che è stato visualizzato mettendo insieme i dati di tutte le piattaforme circa 2 milioni di volte. Chiaramente sono dei risultati di visibilità molto importanti e non è visibilità pura perché si inseriscono un po' in quella che è anche un'idea di diffusione di un messaggio che da un lato, come dicevo prima, fa parte anche degli obiettivi istituzionali di Emergence, la diffusione di una cultura di pace e diritti, dall'altro anche in un'ottica di conoscenza dell'organizzazione, di conoscenza del nome, sicuramente aver avuto un'esposizione così ampia è una cosa positiva per noi.